Buongiorno, vi invito ad accomodarvi per questo secondo appuntamento matutino. Il racconto della storia segreta ci porta alla seconda guerra mondiale, alla vicenda di un ufficiale britannico dell'intelligence in stanza in Italia che consultando le migliaia di foto aeree realizzate da fini militari scopre i resti di siti archeologici sia romani, medievali e anche preistorici. In qualche maniera questo è un momento fondante dell'archeologia del paesaggio. Non è un caso che l'ufficiale fosse un archeologo e infatti al ritorno dal termine della seconda guerra mondiale torna in Italia per realizzare delle campagne di scavo che però sono funestate da lutti, da morti improvvise, insomma da disgrazie e quindi avvolgendo nel mistero questa vicenda. Di cui ci parlerà il professor Giuliano Volpe, ordinario di archeologia all'Università Aldomoro di Bari a cui cedo subito la parola e ringraziando e augurandovi buon ascolto. Grazie, grazie davvero. Allora quando lo scorso anno è stata annunciata il tema della storia in piazza di quest'anno, storia segreta, ho riflettuto sul tema da proporre e in realtà se ci riflettiamo è la stessa archeologia ad essere in qualche modo segreta in che senso? Non tanto nel senso del mistero dell'archeologia che spesso viene proposto per parlare di cose che ancora non conosciamo ma di fatto come vedremo fra un po' è proprio il metodo della ricerca archeologica che si confronta con contesti sconosciuti e dunque per molti versi segreti ma ho pensato che potesse essere utile prendere le mosse da un personaggio molto particolare John Bradford John Spencer Purvis Bradford fu un archeologo importante in realtà fortunato nella ricerca ma molto sfortunato nella vita era nato in Inghilterra a Dailing il 28 agosto del 1918 e aveva frequentato a Londra la scuola di Westminster dal 32 al 36 poi grazie ad una borsa di studio fu ammesso agli studi di storia in realtà lui era uno storico all'università di Oxford dove frequentò il Christchurch College tra il 36 e il 39 in questi anni cominciò a frequentare una serie di scavi anche di una certa importanza in Inghilterra soprattutto con la Oxford University Archaeological Society e poi insieme ad una collega archeologa un amico sempre di Oxford diresse una serie di ricerche che portarono a delle scoperte di un certo rilievo un gruppo di monete romane un sito di una sepoltura anglosassone diverse strutture dell'età del ferro però e questo è un primo problema sulla vita di John Bradford disponiamo di scarsissime notizie pochissime notizie quindi cerchiamo di partire da queste intanto abbiamo scovato un po' i giudizi che i suoi professori all'università davano di lui in questa consuetudine molto inglese di avere un registro con i commenti dei professori sui loro allievi e alcuni dicevano credo che diventerà un vero storico con un profondo apprezzamento per la ricerca originale le sue qualità sono veramente di prima classe è un vero studioso il cui istinto è di fondare i suoi saggi sulle fonti originali piuttosto che su quelle secondarie c'è anche un giudizio un po' meno favorevole quando dice è incuribilmente prolisso sempre forte nelle discussioni è capace di riassumere i punti principali delle sue proposte esuberanti amante dello sconosciuto dello scuro anche questo appunto è un carattere che poi lo porterà ad indagare appunto le fotografie aeree come vedremo fra un po' profondamente colto e di intelligenza notevole una persona appassionata dell'antichità con lo scoppio della guerra anche Bradford fu arruolato e nel 43 si arruolò e viste le sue competenze diciamo archeologiche storico-archeologiche gli si fece seguire un corso di fotointerpretazione e quindi fu assegnato con il grado di tenente al Royal Intelligence Corps in qualche modo il rapporto tra archeologia e servizi segreti specialmente in Inghilterra ma non solo in Inghilterra è stata sempre una costante soprattutto in questi anni del Novecento e anche successivamente insomma l'archeologia è sempre stata molto utilizzata soprattutto dalle grandi potenze colonialiste come uno degli strumenti per controllare acquisire informazioni e controllare oltre che per arricchire i musei appunto inglesi e non solo e dunque lui fu inviato in Tunisia dove cominciò a fare un lavoro di fotointerpretazione e qui mostro soltanto alcune immagini tratte dal suo straordinario archivio quasi ancora del tutto inedito per la verità che è a Londra la Society of Antiquaries e qui vedete alcune immagini con la raffigurazione di Cartagine e anche di Elgem perché già allora Bradford che si occupava di interpretare le fotografie ovviamente a fini militari per individuare gli obiettivi da colpire e anche per verificare gli effetti dei bombardamenti degli attacchi aerei in realtà appunto già cominciò a capire che questo strumento era estremamente importante per la lettura dei paesaggi stratificati nel paesaggio contemporaneo bene dopo poco però sempre nel nel 43 l'allora tenente poi in realtà diventato capitano promosso capitano dell'esercito inglese fu inviato nella base alleata di Sansevero in Puglia cioè dopo con la risalita degli alleati che erano sbarcati in Sicilia ed erano risaliti dal sud verso nord si istituì una una base importante in Capitanata in quell'anno in quell'anno appunto le forze alleate avevano ormai stavano risalendo la penisola e la North African Reconnaissance Wing fu trasferita dalla Marsa che era in Tunisia appunto a Sansevero e Foggia in Puglia e questa era una sezione della Allied Photographic Reconnaissance perché questa scelta? perché in questo territorio nella pianura del Tavoliere erano già presenti una serie di basi militari italiane e tedesche e soprattutto per come aeroporti per il principale era proprio quello che tuttora è affoggia il Gino Lisa e un altro grande aeroporto militare che è quello di Amendola insomma in questo territorio pianeggiante erano già presenti quindi numerose piste di decollo e di atterraggio ovviamente molte delle quali erano state attrezzate già al periodo della prima guerra mondiale la svolta si ebbe appunto negli anni 43 dal 40 41 scusate con la guerra in Albania e la campagna in Grecia quando tutta questa zona divenne un territorio strategico molto importante per i collegamenti con la trasponda dell'Adriatico quando poi si venne ad avere l'alleanza italo-tedesca la Luftwaffe assunse la direzione delle operazioni nella guerra e quindi la gestione di tutta questa serie di aeroporti per i collegamenti con le altre parti del Mediterraneo da cui appunto partivano gli aerei ma questo è successo anche recentemente con la guerra dei Balcani insomma in quegli anni soprattutto nel 43 Foggia e l'aeroporto di Foggia furono bombardati dalle forze alleate e queste sono alcune immagini quei bombardamenti del 43 che rappresentarono una pagina davvero drammatica per Foggia e per questo territorio perché Foggia proprio perché appunto gli aeroporti una serie di industrie chimiche militari e una stazione ferroviaria di grande importanza nella quale peraltro i tedeschi avevano accumulato molte munizioni e quindi ci furono attacchi distruttivi davvero rilevanti su Foggia da parte degli alleati e ovviamente tutto questo veniva documentato dalle fotografie ovviamente degli alleati che non avevano ancora questa base qui cosa che avvenne dopo l'armistizio del 43 evidentemente il 10 ottobre gli alleati liberarono Foggia e quindi presero il controllo degli aeroporti trasferendo qui in Puglia la dodicesima forza aerea che fu rinominata quindicesima forza aerea in Puglia appunto queste piste erano distribuite in tutto il tavoliere ne conosciamo con certezza 33 furono occupati 20.000 ettari di territorio confiscati e trasformati in basi aeree e si allestero in una serie di campi di fortuna alcuni più importanti altri meno però tutto questo territorio fu militarizzato cioè siamo in presenza di un vero paesaggio di guerra costruito e realizzato scusate in pochi mesi che lasciava tracce imponenti qui vedete appunto la cartina con i vari aeroporti e una delle fotografie aeree di Bradford appunto con vedete la pista di atterraggio e tutto intorno le piazzole per la sistemazione degli aerei e poi una serie di altre strutture anticipo già da ora un dato sul quale tornerò fra un poco in basso spero che si riesca a vedere bene non so quanto sia buona la visibilità della platea una nostra foto di qualche anno fa perché questo è uno dei temi che mi piacerà insomma toccare fra un po' è la visibilità di questi paesaggi di guerra anche a distanza di pochi decenni questi aeroporti erano allestiti in gran fretta da squadre specializzate che utilizzavano migliaia di cosiddette grelle cioè dei robusti pannelli di acciaio perforati componibili che è interessante questo è un dato archeologicamente interessante qui vedete alcune immagini appunto degli operai dei militari addetti all'allestimento di queste piste che poi furono lasciate subito dopo la guerra la fine della guerra ed è molto interessante dal putista archeologico ritrovare nei paesaggi rurali ma anche urbani contemporanei reimpiegate centinaia migliaia di queste grelle nelle forme più più strane recinti porte di tutto si è fatto di queste grelle ma sono di fatto uno degli indicatori archeologici di questi paesaggi di guerra degli anni 40 di questa unità militare facevano parte una serie di ufficiali della RAF appunto come Bradford quindi dell'esercito inglese nelle truppe alleate più specificamente del Royal Intelligence Corps come vi ho già detto cioè il servizio in formazione dell'esercito inglese la sua unità lavorativa operativa lavorava in stretta collaborazione con la RAF nel Mediterraneo per appunto scattare migliaia e migliaia di fotografie ad alta quota ma anche con gli Spitfire a bassa quota per poter appunto come vi dicevo individuare gli obiettivi sensibili e anche verificare i danni apportati dalle fortezze volanti dopo i bombardamenti i piloti e i fotografi effettuavano centinaia di sortite segrete appunto e le foto venivano immediatamente sviluppate stampate e analizzate in un laboratorio che fu allestito appunto a Sansevero queste sono alcune preziosissime foto che documentano questi laboratori nei quali operava anche John Bradford quindi furono allestiti questi laboratori e in questa squadra fu particolarmente attivo e particolarmente capace appunto Bradford con un suo amico archeologo in realtà non era propriamente un archeologo ma anche lui aveva un interesse per l'archeologia un ufficiale pilota Peter Williams Hunt che era un collega e un amico di lungo tempo di Bradford ora in realtà Bradford come ho detto è una laurea in storia Williams Hunt aveva una laurea in etnologia ma capirono che c'era materia interessante sotto il profilo archeologico e poi avendo fatto questo corso di formazione avevano conosciuto i progressi della aereofotografia avviata in Inghilterra soprattutto da Crawford e dal Maggiore Hallen che erano tra i più famosi nell'archeologia aerea britannica nel giro di pochi anni Bradford mise insieme un archivio di migliaia di foto che ancora oggi in realtà deve essere interamente sfruttato e all'interno di questo ci sono davvero documenti di straordinaria importanza e proprio recentemente è stato pubblicato da un archeologo di formazione preistorica che però studiando le fotografie di Bradford ha accolto una serie di elementi interessanti anche per questa archeologia della guerra ed è appunto Mike Seger Thomas che ha pubblicato recentemente un volume in cui ha pubblicato una selezione di fotografie di Bradford appunto relativa a questo sistema di oltre 30 aeroporti documentati e queste foto come dire sono estremamente preziose ve ne mostro alcune di grande interesse per esempio in questo caso vedete un aeroporto qui la zona di palmori la zona sempre del pattavoliere ma la cosa interessante sono questi aerei con queste tracce circolari intorno alquanto tra virgolette misteriose non se ne riesce a cogliere esattamente il significato anche in questa foto ma la cosa essenziale qui vedete appunto un'immagine dell'aeroporto principale di Foggia quello attualmente il Ginolisa con una sistemazione degli hangar italiani riutilizzati dalle forze alleate e i wellingtons sono gli aerei utilizzati dalla RAF appunto sistemati nell'aeroporto ma la cosa importante qui vedete altre immagini sempre dell'archivio Bradford si noti sul fondo l'immagine del Gargano quindi verosimilmente questa foto è stata scattata nell'aeroporto di Amendola tra Foggia e Manfredonia nella pianura in cui si vede appunto il Gargano ma la cosa interessante è che appunto e qui vedete l'aeroporto di Amendola che diventò uno dei principali aeroporti una delle piste più lunghe anche per l'atterraggio e l'uso delle grandi fortezze volanti appunto e guardate le decine di aerei sistemati pronti al decollo e quindi alle operazioni di guerra accanto un'immagine dell'aeroporto di Amendola oggi che è un aeroporto NATO e uno dei più grandi aeroporti del Mediterraneo secondo soltanto ad una base americana in Germania tuttora operativo quindi c'è questo straordinario archivio di documenti di aeroporti sistemati allestiti nel tavoliere una presenza invasiva nel paesaggio del tavoliere di cui però oggi si percepiscono pochissime tracce nel paesaggio questa è un'immagine alla quale tengo parecchio perché è una delle piste di decollo di atterraggio nella zona di San Giusto la masseria Torre Bianca beh negli anni passati io ho fatto uno scavo esattamente in questo territorio a poca distanza da questo territorio individuando una grande villa romana e un grande complesso paleocristiano una sede di una diocesi rurale quindi in questo caso credo che non so se Bradford aveva accolto dal punto di vista fotografico questo sito perché poi Bradford non ha potuto pubblicare gli studi che avrebbe voluto pubblicare per le tre fasi neolitica romana e medievale vi dirò fra un attimo una una curiosità tra le tante negli aeroporti del tavoliere erano attivi anche i piloti della famosa squadra red tails le code rosse cioè una unità afroamericana delle truppe alleate costituito da oltre 900 piloti di colore chiaramente frutto di un'evidente discriminazione razziale sottoposti ad un durissimo addestramento in Alabama e nel 1943 questi piloti furono inviati ovviamente in prima linea nelle operazioni più pericolose ma collezionarono talmente tanti risultati da diventare di fatto un corpo di elite e proprio questi piloti erano quelli attivi nel tavoliere quando John Bradford operava per indicare a loro e a questi piloti gli obiettivi da colpire nel Mediterraneo e nelle varie parti in cui bisognava operare bisognava intervenire bene andiamo più sul fronte archeologico a questo punto Bradford e William Sante erano appunto impegnati in queste operazioni belliche ma restavano degli antichisti degli archeologi il loro intuito li portò a ipotizzare che la pianuria del tavoliere nascondesse una serie di segreti archeologici per cui accanto al lavoro propriamente militare cominciarono a mettere da parte e a cominciare ad analizzare una serie di foto orizzontali e a bassa quota verticali perché avevano intuito quello che già ormai gli archeologi conoscevano e cioè che il paesaggio nasconde quelli che gli archeologi chiamano crop marks cioè delle tracce legate alla diversa vegetazione crescita della vegetazione per cui operando soprattutto questo lo facciamo anche noi oggi operando soprattutto nella tarda primavera dopo le piogge della primavera quando le piogge c'erano oggi insomma ce ne sono molte meno il tavoliere che era prevalentemente destinato a colture cerealicole produce una diversa crescita della vegetazione per cui in corrispondenza di tracciati di fosse di canali la vegetazione è più rigogliosa e quindi è più verde in presenza di muri è più stentata e quindi ingiallisce prima e quindi lascia una serie di tracce che spero riusciate a vedere io di qui non riesco a vedere perché la luce negli occhi non so spero che voi vediate vedete in questa immagine che è una foto nostra degli ultimi anni ma appunto ora vi spiegherò vi mostrerò le foto di Bradford qui vedete un vero palinsesto vedete le tracce di un villaggio neolitico con il fossato che definisce il villaggio i singoli fossati relativi alle varie capanne ma anche una strada della centuriazione romana cioè delle divisioni agrarie di età romana soprattutto dal secondo primo secolo avanti Cristo in tutto questo tavoliere diventato ager publicus popoli romani vengono installate realizzate grandi divisioni agrarie e qui vedete anche le tracce di una strada di età romana perché erano delimitate da fossati per lo spaltimento delle acque piovane e quindi sono quelle che lasciano la traccia più netta della strada ma anche dei diverticoli e qui una fattoria romana quindi sovrapposizione di età romana sui paesaggi preistorici e molto spesso anche presenze di insediamenti medievali ma anche di età moderna quindi veri e propri palinsesti da interpretare e da poi studiare tutto questo veniva fatto con le foto ad alta quota da Bradford utilizzando quei sistemi ormai insomma per noi superati abbiamo sistemi molto più tecnologici che sono coppie fotografiche con questi lettori stereoscopici che consentono qui vi faccio vedere un'immagine di una coppia stereoscopica cioè due fotografie effettuate alla stessa altezza in sequenza che alla lettura dello stereoscopio consente di avere una visione tridimensionale esattamente come funziona la nostra vista che ha la visione tridimensionale grazie al fatto che abbiamo due occhi quindi due punti di vista a distanza data che pongono nello spazio l'oggetto esattamente avviene con le fotografie aeree per cui attraverso questo sistema è possibile leggere molto nettamente tutte le tracce i segni presenti nel paesaggio questo ha consentito a Bradford di individuare centinaia e centinaia di siti archeologici del tutto sconosciuti qui ve ne mostro uno proprio dal suo archivio siamo a Madonna dell'Oliveto nel territorio di San Severo nel Tavoliere e questo è uno dei più grandi villaggi neolitici del Tavoliere vedete il doppio fossato che delimita il villaggio con una serie di tracce interne relative all'organizzazione e tutto questo è appunto in corrispondenza di uno di questi aeroporti militari la cosa interessante sono anche questi puntini vedete che guardate qui sono fosse degli ulivi di età romana quindi anche in questo caso abbiamo presenze sovrapposte ma poi ci sono anche le strade della centuriazione strade romane poi ci sono le strade moderne ovviamente e quindi per cui Bradford riuscì a localizzare centinaia di villaggi questa è sono carte ricavate dei suoi studi centinaia di villaggi neolitici perché il suo interesse si concentrò soprattutto su questa fase ma anche perché non riuscì poi a studiare la fase romana e la fase medievale e quindi è rimasto uno studio è uscito soltanto una pubblicazione appunto sul neolitico e qui vedete perché ovviamente riguarda quelle aree che lui aveva potuto indagare a fini militari altre non le ha potuto indagare perché non sono state scattate fotografie su questi altri territori per cui vedete dei vuoti ma nelle aree in cui lui ha potuto operare ecco vedete il diciamo la densità di questi insediamenti e qui però vi mostro anche altri casi questo siamo nei pressi di Troia sempre nel tavoliere evidentemente una villa romana organizzata in tre nuclei con tre blocchi e la cosa molto interessante questi sono degli appunti di Bradford in realtà un libretto che poi non è mai stato davvero pubblicato che aveva fatto con William Sant in cui spiegava il metodo seguito e anche proponeva una ricostruzione qui vedete in basso una ricostruzione esattamente di questo gruppo di edifici di età romana però la cosa riguardava anche il medioevo questo è Lucera con il castello la fortezza Svevongioina e il territorio circostante ma anche i tratturi della transumanza di età scusate i tratturi della transumanza di età moderna qui vedete il tratturo magno cioè il reggio tratturo della transumanza della mena della dogana delle pecore che ha lasciato tracce ormai quasi impercettibili nel paesaggio contemporaneo ma allora negli anni 40 ancora molto ben evidenti e quindi vedete appunto uno di questi tratturi che collegava i pascoli montani dell'Abruzzo con i pascoli di pianura del tavoliere in età tardo-medievale e moderna quindi come vedete appunto una possibilità straordinaria di ricostruzione di paesaggi che altrimenti noi quasi non conosceremo questo è molto interessante sono delle immagini effettuate a seguito dei bombardamenti siamo a Foggia nel territorio vicino a Foggia dove c'è un grande insediamento medievale San Lorenzo in Carmignano peraltro noto anche perché c'era uno scriptorium di una certa importanza dipendente dal vesco di Troia e erede San Lorenzo in Carmignano del Saltus Carmignanensis che era una grande proprietà imperiale che si disponeva in questo territorio in età tardoantica bene cosa fecero a questo punto Bradford e William Massant avevano anche convinto soprattutto negli mesi finali tra aprile e giugno come vi ho detto è la primavera il momento ideale del 45 convinsero i vertici della RAF perché ormai erano di fatto finite le attività belliche e c'era un momento di stasi in questi accampamenti militari quindi prima del rientro in Inghilterra delle truppe e anche degli aerei che erano stazionati lì a Foggia convinsero la RAF ad eseguire delle sortite di addestramento specificamente archeologiche quindi con degli Spitfire con degli aerei dei caccia più veloci che potevano volare anche a quote più basse andarono a verificare le tracce che avevano letto sulle fotografie scattate ad alta quota e proprio perché William Hunt era un pilota riuscirono a fare una serie di sortite con una serie di aerei tra i cui i Fairchild ad alta ala e realizzarono una serie di riprese oblique che sono estremamente importante e fecero addirittura riuscirono a convincere l'esercito con alcuni militari a fare anche dei piccoli saggi di scavo quindi ci furono queste operazioni di cui quasi nulla ormai sappiamo le fotografie diventarono però un preziosissimo supporto per impedire il bombardamento di città e anche di monumenti culturali significativi in Italia bisogna dire quindi non soltanto obiettivi strategici a colpire ma anche obiettivi da evitare per motivi culturali perché Bradford entrò a far parte anche del corpo famoso grazie ad un film soprattutto dei Monuments Men del tenente colonnello John Brian Ward Perkins grandissimo archeologo che poi diventò era il direttore di questo corpo in Italia ma dal 1947 Ward Perkins diventò anche il direttore dell'accademia britannica di Roma e quindi lui era il comandante dei Monumentment soprattutto per l'area delle Fine Arts e quindi coptò anche Bradford in questa in queste operazioni proprio perché si trattava di una persona molto competente la guerra finisce Bradford torna in Inghilterra ma è deciso a proseguire le ricerche in Puglia perché ha questo straordinario archivio vuole andare a conoscere il territorio direttamente non più soltanto dagli aerei e quindi nel 1947 diventa assistente universitario al museo Pete Rivers di Oxford dove tiene corsi di etnologia e di archeologia aerea è persona abbiamo visto esuberante si parla di un entusiasmo contagioso che riesce a convincere le maggiori personalità del mondo archeologico inglese per cui nasce la Puglia Committee sotto la presidenza di uno dei più grandi archeologi inglesi Sir Mortimer Wheeler e grazie alle sottolegi della prestigiosa Society of Antiquaries di Londra di cui anche Bradford era diventato membro nel 1948 quindi insieme a Ward Perkins mettono insieme proprio al museo Pete Rivers un archivio di fotografie scattate anche io qui non posso mostrarvele ma anche in Nordafrica nel Vicino Oriente in Italia Meridionale in Etruria ovviamente un archivio enorme che andrebbe tutto digitalizzato reso pubblico evidentemente e quindi nel 1948 però c'è una svolta nel senso che sposa sua moglie che qui vediamo diventa sua assistente è una storica dell'arte medievale appassionata di medioevo soprattutto si chiama Patience Felicity Andrews qui lo vedete la vedete col fratello accanto il primo è Bradford che diventa anche la sua più stretta collaboratrice quindi dal 49 al 50 con l'ausilio e anche il permesso delle autorità italiane e il finanziamento della Puglia Comitì una serie di campagne vengono svolte grazie all'Accademia Britannica di Roma e Bradford con la moglie cominciano delle ricerche utilizzando ovviamente mano d'opera locale mano d'opera foggiana conducendo una serie di campagne di ricognizione di scavo qui vi mostro una fotografia di Bradford durante la seconda guerra mondiale con uno dei più grandi villaggi neolitici nei pressi di Foggia è quello di Passo di Corvo e qui vedete una foto con gli scavi di Bradford nel villaggio di Passo di Corvo mi piace ricordare questo perché poi successivamente questo diventa uno degli scavi del professor Tinet proprio dell'Università di Foggia che per anni ha condotto scavi a Passo di Corvo e poi si è occupato anche della sua musealizzazione quindi Tinet ha proseguito il lavoro di Bradford quindi realizza questi questi scavi però dobbiamo dire che qui tocco già un tema che mi sembra interessante nel corso degli ultimi decenni questi paesaggi archeologici sono andati svanendo qui mostro in sequenza tratti da un mio studio di un po' di tempo fa delle foto in parallelo una foto di Bradford e una della situazione attuale questa prima è quella di San Lorenzo in Carminiano che nella foto di Bradford è perfettamente conservata con il circuito di mura e tutta l'organizzazione del casale medievale e questa è la situazione attuale con una dispersione di ahimè edifici abusivi che hanno completamente invaso questo sito medievale di grande importanza abbiamo effettuato anche degli scavi ma il stato di conservazione è estremamente danneggiato anche qui vedete una foto di Bradford in bianco e nero in basso con questo straordinario villaggio sempre di passo di corvo e l'attuale situazione e anche qui appunto questo motto della regina cioè sono paesaggi che progressivamente stiamo perdendo questo sono paesaggi di età romana con le accenturi azione e anche altre situazioni come queste torrione del casone siamo in un pieno insediamento medievale anche qui tra agricoltura meccanizzata infrastrutture paleoliche e una serie di altri interventi questi paesaggi di fatto nel giro di 70 anni rischiano di sparire definitivamente per cui l'archivio Bradford diventa quanto mai prezioso guardate quelle fotografie che abbiamo stato prima con quelle tre edifici rurali di età romana oggi sono quasi del tutto impercettibili nelle fotografie che abbiamo scattato alcuni anni fa insomma già allora Bradford aveva segnalato i rischi di danneggiamento alla soprintendenza ma non ottenne nessuna attenzione come se emerge anche da una serie di sue lettere in cui lamentava questo se gli istituti di tutela già allora si fossero occupati di questo ovviamente avremmo una situazione diversa per esempio nell'insediamento di Arpi che fu studiato da Bradford e che nel corso degli ultimi decenni è stato totalmente depredato dai tombaroli arricchendo le colazioni private e anche quelle museali di mezzo mondo si è calcolato che non meno di 20.000 reperti all'anno siano stati asportati illegalmente da Arpi nel corso dei decenni dopo la guerra non mancavano anche una serie di problemi pratici come i pressanti problemi finanziari ovviamente in una lettra molto interessante si lamenta anche di un incidente pare che un amico italiano avesse preso in prestito la macchina di Bradford senza autorizzazione che fosse andata a sbattere contro un muro avesse rotto la macchina e Bradford non sapeva come fare a pagare la riparazione ma insomma poi aveva fatto viaggi anche in Sicilia così però in realtà i suoi rapporti con Ward Perkins erano andati peggiorando e la terza stagione di scavi di ricerche prevista nel 51 in realtà fu bruscamente interrotta forse perché proprio non c'erano soldi ma anche questo è un po' un mistero ma certamente i rapporti non erano più molto buoni e pare che non fossero riusciti a reclutare assistenti adeguati per effettuare le ricerche e nonostante la sua infaticabile ricerca di finanziamenti di enti disposti a finanziare le sue ricerche non era riuscito a portare a compimento questo suo questo progetto ma in realtà è probabile che fosse esploso una contrapposizione tra Bradford e Ward Perkins di tipo come dire scientifico culturale cioè Bradford aveva acquisito e conosceva bene le teorie dello storico francese Marc Bloch e qui cito sosteneva un approccio olistico allo studio della storia del paesaggio e ne osservava i cambiamenti come un'amalgoma di piccoli dettagli e locali cioè come dire Bradford poneva grande enfasi sulla natura episodica dei cambiamenti del paesaggio e sulla necessità di definire un continuum con una continuità fatta di sequenze di interruzioni quindi da un certo punto di vista Bradford negli anni cinquanta era molto in anticipo rispetto di molti anni rispetto al suo tempo questo approccio come dire olistico che oggi è centrale nella nostra moderna archeologia dei paesaggi non era ancora acquisita e quindi evidentemente c'erano stati dei problemi proprio di approccio metodologico comunque da allora comincia una serie incredibile di tragici incidenti Peter William Hans il suo amico e collega di cui vi ho parlato muore nel 53 in un tragico incidente in Malesia ad appena 35 anni nel 57 finalmente dopo 10 anni di lavoro Bradford pubblica la sua opera principale Ancient Landscapes che ancora oggi centrale ancora oggi è insuperato per certi aspetti se ne si pensa di fare una traduzione italiana per Giulio Inaudi che dimostra un interesse contatto l'editore Bell & Sons ma Bradford aveva accettato con entusiasmo Enaudi chiede una serie di profonde trasformazioni al libro Bradford si dichiarà disponibile a fare ma chiede un compenso Enaudi non vuole pagare e la cosa non va a buon fine quindi questo libro resta nella sua edizione originaria oggi difficilmente rintracciabile se non attraverso un po' il collezionismo per certi aspetti comunque dopo aver fatto una serie di altri viaggi Bradford cominciò a avere seri problemi di salute erano i sintomi di quella malattia fatale e imperdonabile che dal 1960 fino al 75 poi 15 anni fino alla sua morte lo tenne rinchiuso in un ospedale ponendo evidentemente fine alla sua carriera accademica che cosa fare di questo progetto quindi fu la sua moglie Patience a cercare che aveva sempre sostenuto il marito a cercare di portare avanti per cui accettò con entusiasmo la proposta che gli venne fatta di occuparsi soprattutto del periodo medievale in Puglia quindi venne Patience mentre il marito era in ospedale lei era innamorata della figura di Federico II portò con sé Barry Jones che è stato un altro allievo di Bradford che si occupava del periodo romano e David Trump che avrebbe dovuto proseguire la ricerca sul neolitico mentre Caterina Delano Smith ebbe il compito di studiare gli aspetti geomorfologici le trasformazioni tra età medievale neolitica romana e medievale quindi nel 63 Patience torna in Puglia con manodopera locale e comincia uno scavo nei pressi Alcasone un sito medievale nei pressi di San Severo la fondazione Lerici l'importante fondazione Lerici aveva messo a disposizione anche delle strutture per fare indagini geofisiche e avevano scoperto un forno una fornace medievale una sera finito il lavoro giornaliero Patience ritornò sulla trincea di scavo sul saggio di scavo che era abbastanza profonda fu colta da malore e cadde cadde era stata una giornata molto calda Patience aveva avuto già problemi una specie di ictus insomma cadde cadde e fu cadde su un sasso molto grande nelle vicinanze non c'era nessuno era lei da sola l'operaio che lo aiutava era andato via era rincasato per cui l'allarme venne dato molto tempo dopo sta povera donna rimase per tanto tempo per cui fu portata all'ospedale di San Severo poi fu chiamato Ward Perkins nel cuore della notte che si precipitò a Foggia per riportarla in Inghilterra insomma anche la carriera della moglie di Bradford termina tragicamente perché rimane paralizzata non ebbe la forza ovviamente di riprendere il lavoro a cui aveva dedicato tutta la sua vita prima col marito e visse ad Oxford fino alla morte nel 1985 curata dal padre novantenne e poi da un'amica intanto come vi ho detto dieci anni prima Bradford era morto e uscirono poche notizie il Times del 26 agosto scrisse Joe Bradford morto all'età di 57 anni era uno degli archeologi più capaci della sua generazione ci furono una serie di brevissimi necrologi ma di fatto di Bradford quasi non si seppe più nulla devo fare una precisazione in realtà si pensò che Bradford fosse morto per alcolismo che fosse alcolizzato e quindi il suo profilo fu in qualche modo oscurato dalle storie ufficiali per questo è uno dei motivi per cui verosimente sappiamo poco di Bradford si è scoperto solo molto tempo dopo che di fatto soffriva di una malattia neurologica congenita degenerativa che aveva molti sintomi in comune con l'alcolismo quindi il povero Bradford non era alcolista magari gli piaceva il vino forte della Puglia però non era alcolista insomma possiamo parlare quasi di una maledizione dell'archeologia aerea di questo progetto perché poi anche Barry Jones non fece una bella fine insomma questo progetto non l'ha voluto più riprendere nessuno non so se questo è perché ma certamente di storia segreta si tratta segreti erano i servizi nei quali lavorava Bradford durante la guerra segrete erano le foto realizzate a fini bellici ma come vi dicevo mi avvio veramente alla conclusione per certi aspetti è la stessa archeologia da avere una matrice che potremmo definire basata su una storia segreta ripeto non sul mistero ma su una fonte segreta com'è la natura delle sue fonti basata su delle tracce su spie su fonti a volte davvero evanescenti e una delle domande che ci poniamo è quanto durano le tracce e allora parliamo delle tracce del di quel paesaggio di guerra di quegli aeroporti che avevano così in maniera così invasiva trasformato il paesaggio rurale del tavoliere in quegli anni con la realizzazione di quei almeno 33 aeroporti con quelle piste queste immagini qui degli aeroporti militari con le foto dell'Igm di pochi anni successivi siamo negli anni 50 ebbene se noi confrontiamo questo con le immagini che abbiamo scattato noi negli stessi siti pochi anni fa quasi nulla di quelle tracce cogliamo vedete le tracce sempre le foto Igm degli anni 50 e oggi la possibilità di individuare ancora su quelle foto molto bene queste tracce ma oggi se le mettiamo a confronto vediamo che quei segni così forti a volte si conservano abbastanza ma in alcuni casi sono andati del tutto persi vedete che conservano questi aeroporti militari in cui c'erano questi hangar e di cui appunto come vi dicevo poco fa spesso cogliamo tracce indirette attraverso queste presenze diffuse delle grelle e ancora appunto i nostri tentativi di ricostruire questo paesaggio di guerra di cui perderemo le tracce del tutto fra pochi anni se non riusciamo in qualche modo a documentarli e quindi il tema è quanto tempo un oggetto sepolto resta visibile se dopo 60 anni di fatto è andato perso quanto abbiamo perso dei paesaggi antichi che evidentemente non hanno lasciato tracce che noi non riusciamo a cogliere e allora abbiamo avviato una ricerca su questo questo per esempio è un aeroporto nei pressi di Canosa vicino Loconia molto interessante perché aveva riutilizzato un'azienda agricola erano stati realizzati queste strutture e oggi il sito si presenta così quindi stiamo cercando di documentare anche archeologicamente anche questi paesaggi del novecento che altrimenti rischiamo definitivamente di perdere ma che sono state una pagina importante della storia di un territorio evidentemente ci sono poi casi straordinariamente interessanti che sono questi questa è la pista di Borgo mezzanone che oggi è il ghetto la pista che ospita migliaia di migranti che proprio in queste strutture hanno realizzato un altro villaggio estemporaneo e mi pongo il problema di cosa resterà di questa presenza fra cinquant'anni sessant'anni anche qui come quegli aeroporti della seconda guerra mondiale siamo in presenza di un popolamento importante un pezzo di storia importante di questo territorio in questo caso con questi villaggi questi ghetti purtroppo vengono chiamati così diffusi nel territorio del tavoliere ovviamente legati allo sfruttamento di queste persone in agricoltura e sono un'altra presenza importante in questo caso con una sovrapposizione addirittura su uno degli aeroporti della seconda guerra mondiale insomma noi archeologi che ci occupiamo di paesaggio appunto cerchiamo di leggere stratificamente e di cogliere le tracce di questi paesaggi sovrapposti con un approccio globale complesso stratigrafico con attività multidisciplinare e sistematica che vanno dalla normale ricognizione che ci consente di cogliere delle tracce presenti soprattutto dopo le arature ma anche grazie ad una serie di strumentazioni che la geofisica oggi ci mette a disposizione che già Bradford aveva utilizzato cogliendone l'utilità con la fondazione Lerici appunto qui lo vedete e oggi anche chiaramente con la geofisica molto più raffinata questo è uno dei siti di Bradford che noi abbiamo indagato lo scorso anno e che ci ha dato una perfetta restituzione di una villa romana vedete con le trincee dei vigneti con una delle strade della centuriazione o come in questo caso per la ricostruzione di questi villaggi alto medievali ma anche dei siti romani perché vi parlo di questo perché noi rischiamo nel giro di pochi anni di perdere tutto questo perché spesso le infrastrutture fatte senza un'indagine archeologica preventiva rischiano di cancellare queste tracce di storia presenti nel nostro territorio e qui vi mostro alcune immagini di insediamenti medievali e così via oggi abbiamo altri strumenti importanti che ci consentono di indagare storie ancora più segrete e il LIDAR è uno strumento che consente di attraversare anche quei paesaggi invisibili come i boschi come i pascoli e di poter leggere al di sotto della vegetazione che altrimenti non consentirebbe alcuna visibilità anche i paesaggi stratificati al di sotto appunto di questi paesaggi contemporanei insomma noi archeologi procediamo per tracce e ovviamente abbiamo bisogno di approcci integrati e d'altra parte non è un caso che l'archeologia è stata anche considerata vicina e non perché Freud aveva una grande passione per l'archeologia ma per il metodo stratigrafico che indaga in qualche modo sequenze ignote nella psiche e nel sottosuolo è stato posto in relazione con la psicanalisi o con il metodo investigativo tipico di chi opera con il paradigma indiziario e quindi attraverso una serie di metodi a nostra disposizione cerchiamo appunto di scavare anche non materialmente ma attraverso la conoscenza tutte le storie segrete presenti nei nostri territori contemporanei mi avvio alla conclusione perché penso che sia interessante anche in questa occasione in questo bel ciclo di storia segreta della storia in piazza aver raccontato un po' la storia di un per più versi segreta di John Bradford e la cosa che mi sembra interessante è che il suo lavoro segreto ho finito sul materiale fotografico realizzato per fini bellici durante la guerra sia poi diventato a base per la ricerca scientifica dell'archeologia moderna direi della cultura e perché no anche della pace grazie 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 a tutti